Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Etty G. Marche. Oggi, 24 agosto, l'anniversario della prima scossa dei terremoti del 2016, commemorazione, lutto cittadino ad Arquata del Tronto, dove persero la vita 51 persone. Vediamo. La notte della commemorazione con il vescovo di Ascoli Piceno, Giampiero Palmieri, poi il lutto cittadino ad Arquata del Tronto, la messa nel pomeriggio a Pescara. A sei anni da quel, 24 agosto, quando la prima scossa dei terremoti del 2016 si portò via 51 persone, intrappolandole sotto i crolli nel comune Ascolano, tra la Laga e i Sibillini. Sei anni di dolore in Ciampia, una ricostruzione avviata solo a metà. La prima devastante scossa ad agosto sconvolse soprattutto i comuni di Arquata, Accumoli e Amatrice, tra Marche e Lazio, ma coinvolse nei danni, già dal primo round, anche diversi comuni dell'Ascolano, tra cui Montegallo, Acqua Santa Terme e la stessa Ascoli. I primi crolli c'erano stati anche a Castel Sant'Angelo sul Nera, come a Visso e a Ussita. A Castel Sant'Angelo, dove il paese e le frazioni sono ancora per la maggior parte transennati e deserti, è atteso l'avvio delle demolizioni, come ad Arquata del Tronto e nei comuni più colpiti. Il primo passo per avviare il futuro dopo la progettazione. Paesi poi condannati alle zone rosse dal secondo round del sisma del 26 e 30 ottobre. Sono più di 80 i comuni marchigiani nel cosiddetto cratere del centro Italia, una delle più grandi tragedie italiane. E ora parliamo della situazione attuale e della speranza per il futuro. Vediamo. Se il comune d'Arquata fosse diviso a metà, dall'altra parte ci sono tre frazioni in cui qualcosa sta in piedi, la ricostruzione è cominciata, a partire da Trisungo, Faete, Spelonga e Colle. Da quest'altro lato invece c'è una distruzione totale. Qual è il suo augurio? Il mio augurio è che tutti insieme, tutte e tre decifrazioni, tutti gli abitanti d'Arquata possiamo tornare alle nostre case. Lì sarà la vittoria di tutti. Fino a che non siamo tutti a casa, nessuno può essere felice in questo paese. Il dolore più grande è qui, a Pescara del Tronto, dove persero la vita 48 delle 51 vittime di Arquata del Tronto. Una a Capodacqua, le altre ad Arquata capoluogo, tra cui la piccola Marisol, 18 mesi, la più piccina. Pescara sembra una dolorosa Pompei, in attesa di futuro. I progetti sono sulla carta, un paese in parte da delocalizzare e ancora attese. Dopo sei anni vorremmo vedere qualcosa di concreto. Stiamo dentro le tele sai. La muffa è una cosa pazzesca. La metratura è quella che può essere. In lungo la salaria passano le macchine e balla tutto quanto. Cioè, ma noi non è che chiediamo più da tanto, noi giriamo quello che avevamo prima. Tutto là. Una cosa dignitosa. Riacquistare un briciolo di dignità, tutto lì. Pescara nel futuro dovrebbe essere ricostruita su questa collina, quella che vediamo alla nostra sinistra. Esatto, esatto. Lì, lungo quella collina, in basso, come ci hanno fatto vedere, perché ripeto, è sempre su carta. Qui a Piedilama, come nelle altre frazioni più danneggiate, Giuseppe, invece del vuoto, vede ancora le case e ricorda per ognuna gli abitanti, le persone, i vicini di casa. Qui c'era la casa di Arduina, che attualmente risiede alle SAI. Qui c'è la casa di Gabriella, che invece si è delocalizzata e è andata a San Benedetto. Questi percorsi li faccio e li vivo solo di ricordi proprio, perché piano piano mi sto abituando ormai al cambiamento. Però purtroppo, dopo sei anni, viviamo di ricordi, non c'è un cantiere purtroppo qui, non c'è ombra di ricostruzione. Ad Arquata del Tronto si stimano più di 1800 edifici da ricostruire, con un costo complessivo che sfiora i 900 milioni di euro. Un'opera imponente. Intanto partono le demolizioni, entrando finalmente nei centri più devastati, come quello del capoluogo. Adesso c'è un grande movimento che ci va a ben sperare, nel senso che la popolazione torna comunque qui, nonostante le case, non ha un posto dove andare. Ancora la gente è radicata ed è attaccata alle nostre tradizioni, alle nostre radici. Se perdiamo anche questo treno, anche le persone più attaccate a questi luoghi rischiano di non venire più. Quindi c'è bisogno di fare in fretta. Adesso ci ha abbiato tutti gli strumenti. Mi auguro che chiunque verrà da parte della ministra delle elezioni politiche possa continuare il lavoro. Non posso immaginare se si possa tornare indietro. Ed ora la cronaca perché è originario di Senigallia Giovanni Padovani, calciatore e modello, accusato di aver ucciso a Martellate la notte scorsa a Bologna l'ex compagna Alessandra Matteuzzi di 56 anni. L'uomo arrestato era già stato denunciato dalla vittima, aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice, un divieto però che non gli ha impedito di ammazzarla. La donna è stata aggredita sotto il portico di un palazzo. Sarebbe arrivato Giovanni Padovani ieri a Bologna in aereo proprio dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa. L'uomo calciatore in Sicilia appunto con una squadra locale ed è conosciuto, noto anche a Senigallia perché è proprio la sua città d'origine. Ed ora parliamo di sanità, criticità organizzative, garanzia delle ferie estive, mancata stabilizzazione del personale precario, manifestazione oggi davanti al vecchio ingresso del pronto soccorso degli ospedali riuniti di Ancona. Ieri c'è stato un incontro con la direzione ospedaliera ma sul nodo del personale ora il tavolo si sposta in regione con l'appuntamento del prossimo 7 settembre. Vediamo. Per le criticità organizzative, per la stabilizzazione del personale precario e per la garanzia delle ferie estive. Ovviamente le ferie estive sono state garantite ma con grande sacrificio e senso del dovere di tutti i lavoratori dell'azienda. Abbiamo avuto doppi turni, salti riposo, prestazioni aggiuntive. Ricordiamoci che usciamo da un'emergenza sanitaria ma da maggio ad oggi abbiamo avuto un ulteriore picco dei contagi da Covid. Il personale è contagiato quindi per far garantire ferie estive ai colleghi hanno dovuto fare doppi turni, salti riposi con un personale stanco e allo stremo. Personale precario assunto durante il Covid, personale che non è stato rinnovato, personale con requisiti da stabilizzare che ad oggi non sono stati stabilizzati se non nella figura di tre professionisti e tre ostetriche ma abbiamo ancora tanti professionisti che devono essere stabilizzati. Quanti sono qui agli ospedali riunitati? Ad oggi abbiamo 500 persone che sono a tempo determinato su un totale di 3.100 di personale in toto di personale al comparto. Adesso in questo incontro più regionale a cui si deve fare riferimento alla politica in questo caso che cosa chiedere? Sicuramente dovremmo spostarci sul tavolo regionale come ieri anche i nostri segretari regionali all'incontro con l'azienda hanno fatto presente. Dobbiamo andare su quel tavolo per parlare di stabilizzazioni, di dotazioni organiche, di aumento di tetti di spesa, di fondi. Il 7 siamo stati convocati il 7 settembre presso il tavolo regionale quindi siamo aperti a un confronto e a un colloquio. Il sindacato c'è. Ed ora la politica. Ieri avvio di fuoco per la campagna elettorale proprio da qua nelle Marche con il bagno di folla per Giorgia Meloni in piazza a Roma e la presentazione dei candidati della Lega invece con Matteo Salvini a Pesaro in vista delle elezioni appunto delle 25 settembre. Tre assessori della giunta regionale sono in corsa e con buone prospettive di essere eletti. Vediamo. I pronostici sono favorevoli e se ci dovesse essere un'elezione di massa la giunta regionale targata Fratelli d'Italia guidata da Francesco Acquaroli perderebbe in un solo colpo il vicepresidente Carloni della Lega l'assessore all'istruzione Latini pronta a tornare in Parlamento dopo la parentesi di Palazzo Raffaello e l'assessore al bilancio e alla ricostruzione post-sisma Castelli. Un rimpasto sarà dunque pressoché inevitabile dopo il 25 settembre la regione usata dagli assessori della destra come trampolino per le loro personali ambizioni dice il consigliere Mangialardi del PD. Un'opportunità dicono gli assessori in Lizza per uno scranno a Roma. Io credo che sia una grande opportunità per la regione e anche per la giunta avere delle persone che hanno maturato un'esperienza, una competenza che a un certo momento possono aiutare anche dall'esterno questa amministrazione. L'esperienza appunto con le piccole e medie imprese mi ha più volte fatto capire quanto a volte le scelte fatte dal nazionale sono lontane dai bisogni reali dei piccoli imprenditori che in questo momento sono alle prese con dei pericoli e dei rischi che a volte non vengono letti nemmeno come quello del costo dell'energia delle bollette che rischierà in prossime settimane di piegare tanta parte del nostro sistema delle piccole imprese. Il mio percorso è partito da Roma, poi ho portato un valore aggiunto in regione dopo l'esperienza che avevo avuto a Roma. Quindi sicuramente aver avuto un contatto più diretto con il territorio mi ha fatto comprendere anche cosa c'è bisogno a livello regionale ma dove sono anche i punti dove incidere a livello nazionale. Il cambiamento sarà inevitabile, imposto dall'eventuale esito elettorale ma c'è da dire che noi abbiamo lungamente meditato su questa scelta che consentirà, se sarà avverato il pronostico, almeno tre assessori di diventare tre assessori ambasciatori delle Marche a Roma. Continueremo ad essere davvero delle presenze vicine proprio per consentire al Presidente Acquaroli di continuare quell'azione riformatrice da Gabiccio fino a Quarta del Pronto. Un'ultima notizia, una notizia purtroppo triste, Università di Camerino in Lutto per la prematura scomparsa della professoressa Stefania Scuri, la stimata docente della scuola della scienza del farmaco, si è spenta nella notte, vinta da una malattia gravissima a soli, 47 anni, purtroppo ha scritto il rettore di Unicam Claudio Pettinari, la professoressa Scuri ci ha lasciato, è stata nonostante la sua giovane età un esempio per tutti per competenza e professionalità. Questo dunque il ricordo del rettore Pettinari. Noi per il momento ci fermiamo qui, vi ricordo le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.etvmarket.it. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti